Si è insediata nel pomeriggio di ieri la Commissione Statutaria, l'organismo che dovrà ridigere lo Statuto della città metropolitana di Napoli. Nel corso della prima riunione è stata anche definita la composizione dei tre gruppi di lavoro che dovranno occuparsi rispettivamente dei principi, degli organi e delle funzioni dell'ente che dal primo gennaio prenderà il posto dell'amministrazione di Piazza Matteotti. Il gruppo 1 risulta così composto dai consiglieri metropolitani Carmine Attanasio e Elena Coccia di Bene Comune, Paolo Avitabile degli NCD Udc, Giuseppe Capone, Stanislao Lanzotti, Francesco Pinto di Forza Italia, Luca Mascolo e Domenico Tuccillo del PD. Il gruppo che si occuperà degli organi è invece formato dal Pidio Capasso, BC, Domenico Marrazzo e Gabriele Mundo di Forza Italia, Domenico Palmieri e Marco Mansueto di NCD Udc, Salvatore Madonna, Ciro Sarno e Ferdinando Uliano del Partito Democratico, mentre compongono il gruppo 3 che si occuperà delle funzioni, i consiglieri Davide Lebro e Gaetano Troncone di Bene Comune, Antonio Pentangelo e Francesco Iovino di Forza Italia, Raffaele Lettieri dell'NCD Udc, Vincenzo Moretto, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e Antonio Borriello e Agostino Pentoriro del PD. Presidente Tuccillo, continuo il lavoro per lo statuto, oggi si è riunita la commissione, sono stati nominati le sottocommissioni. Sì, si è insediata appunto la commissione, si sono costituiti diversi gruppi di lavoro, il primo per i principi generali, il secondo per gli organi, il terzo per le funzioni e quindi si è registrato un clima molto positivo, c'è il concorso di tutti i gruppi, di tutte le forze politiche ad un impegno corale per la realizzazione di questo grande obiettivo, mi sembra che si sia registrato appunto uno spirito di grande partecipazione e collaborazione. Con l'insediamento poi daremo vita nei prossimi giorni, dopo le festività natalizie, ai primi lavori, le prime attività della commissione per passare alla fase di stesura dello statuto. E' rientrata anche Forza Italia? Sì, c'è stata una dichiarazione in tal senso appunto dei consiglieri di Forza Italia che hanno probabilmente anche in questi giorni che sono trascorsi hanno ripensato un po' la propria posizione, hanno probabilmente anche avuto modo di apprezzare le disponibilità e le dichiarazioni che sono state rese dal sottoscritto e poi anche dagli altri gruppi e quindi si è ricomposto il quadro.